Questo è l'esterno dell'edificio dove praticamente ci sono anche dei mezzi pubblici di trasporto, linee di mezzi pubblici, eccola qua, questa è la struttura dell'esterno, come potete vedere c'è addirittura una montagna di, vorrei dire calce, che è un elemento estremamente inquinante, così come il contenitore che avete visto poco fa, è un cantiere che ha praticamente transennato con dei fili di ferro, come quello prima visto completamente aperto, è un cantiere ancora aperto ma in stato di abbandono comunque, va bene?